Ciao ragazzi, oh bella lì, salve, vi siete rubate tutte le cose, buongiorno, ma vi posso dire una cosa? Vai, dica, oh ma è sempre io, non so cosa dire, buongiorno, in poche parole, ieri ero giù da mia nonna e all'improvviso ho visto un gatto, gattonare, gattonare Beh, però voi non capite un cazzo, ho tolto ste cuffie di merda, voi non capite nemmeno una battuta, fate cagare alla mi